ciao a tutti benvenuti anche oggi nel mio canale anche oggi per un video ma il video di oggi non è un video come tutti gli altri non è cantato non è raccontato e non sono invasioni di campo in questo caso è un blog che è stato realizzato quest'estate ho dovuto aspettare a pubblicarlo perché è relativo ad un contest e vi spiego che cosa è questo contest il video è tutto il retroscena backstage è stato registrato e lo ringrazio fra l'altro da luigi serafini che ha fatto tutto il backstage di questo di questo video appunto che andrete a vedere dedicato proprio alla foto a una foto in particolare la foto equipe della mia equipe dell'estate scorsa del 2017 tutti insieme per realizzare una foto molto particolare e concorrere a un contest la migliore foto dell'anno abbiamo provato appunto a realizzare una foto molto molto particolare e abbiamo avuto però anche l'idea durante appunto la preparazione di creare questo vlog io ringrazio innanzitutto i ragazzi che erano presenti alla stagione 2017 nel villaggio San Francesco ringrazio ovviamente l'agenzia San Marcanda ringrazio tutti i ragazzi che con me hanno fatto questa foto equipe ringrazio Mitch chiaramente e tutti quelli che hanno avuto l'idea insomma di realizzare questa foto sperando di vincere questo contest e oggi vi faccio vedere il backstage della foto equipe 2017 buona visione e grazie ok allora io vado a Scusa lento! Scusa Lucia! Vieni! Ma dovete andare di qua a cambiarmi? Vieni! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.